Buonasera, buonasera, allora Inter Empoli, anzi Empoli Inter 0-2 Una partita che oserei definire normale Che finalmente una partita che giochiamo Senza patemi d'animo, con gol assurdi di giocatori sconosciuti E rimonte, casino, eccetera Una partita normale, normale Che riusciamo a aprire molto bene con due gol nei primi 20 minuti Avrei avuto anche il terzo perché comunque nel secondo tempo Siccome siamo l'Inter, normale ma fino a un certo punto Perché qualcosa abbiamo sofferto Però vabbè, diciamo che ci può stare Comunque l'Empoli è una squadra che comunque è sempre pericolosa Fa ormai del possesso palla, la conosciamo insomma Del possesso palla, la sua virtù E vabbè, comunque un 2-0 secco, diciamo così Inter ha meritato Ecco, se tutte le partite fossero così Quelle contro le piccole Vinceremo il campionato perché Evidentemente non perderemo così tanti punti Perché poi se contro le grandi giochiamo contro la Juve Come contro la Juve Ave, capito, dominiamo il campionato Ovviamente non succederà così E no, comunque appunto sono contento Moderatamente, insomma non è che ho risultato più di tanto stasera Sono stato molto contento con il gol di Cardi Ma poi tranquillo Giudizi singoli Dunque Andanovic è buono Ha fatto due parate su Di Marco Non semplici La prima soprattutto Santon Regano mi è piaciuto Ha fatto schifo secondo me Ha fatto una chiusura buona al 43esimo del secondo tempo Me la sono segnata perché è stato un evento record Non bene secondo me neanche Miranda e Murillo Miranda un po' disattento E cosa che Cioè lui non è mai praticamente disattento Oggi in un paio di situazioni ha avuto dei problemi Murillo Si è fatto a morire subito Lui è un giocatore molto irruento Un giocatore che comunque fa questi strafalcioni ogni tanto Perché anche sul sito di gioco insomma Però vabbè dai insomma poteva fare meglio ecco Bene D'Ambrosio Regalzo le mani su D'Ambrosio Ha giocato bene oggi Ma bene veramente bene Primo tempo davvero bravo Secondo te poi è un po' calato Ma niente di che Comunque Sufficienza piena se la merita Anche 7 for No vabbè 7 no 6 e mezzo diciamo Centrocampo molto bene gioco Mario Davvero ha sostituito Banega alla perfezione Al primo tempo Ha fatto un paio di aperture strepitose Un al volo bellissimo assist per Riccardo del gol Medel ha fatto il suo Con Dogbia un po' sempre compassato Un po' lento Davanti Perisic 6 niente di che Senza infame senza lode Bene che andremo nel primo tempo Molto bene che andremo nel primo tempo Secondo tempo anche lui è un po' sceso Vabbè Mauro Cioè raga Mauro è Mauro Mauro segna Cioè Poteva fare anche il terzo E poteva essere un po' allungata Nel primo tempo Però vabbè Dai glielo perdoniamo Ha fatto due gol Ha toccato due palle Ha fatto due gol Poi vabbè Ha toccato altre Altre palle dopo Ha fatto un'ottima cosa Per Candreva Andato Cioè In profondità Va a lottare Stoppa la palla E gioca per Candreva E quello È stata una bella cosa Poi Candreva Gli ha tirato Centrale Niente È una partita Rega normale Vabbè Poi sono entrati anche Der New Curie E Melo Non ho niente da dire Tutti due Sono entrati A 15 minuti Nella fine Melo A 5 minuti Nella fine Hanno fatto il loro Insomma Melo mi è piaciuto Perché Melo Quando entra Nella fine È sempre comunque Bella Ignoranza Randellate Cioè Arriva la palla Lui la spedisce Il fanno laterale Perché chi se ne frega Giustamente Ma è giusto così E No vabbè Comunque È una buona partita Dell'Inter Non chiedevo altro Insomma Cioè Chiedevo di fare Una partita decente Senza insomma Essere Sull'1-0 A soffrire Fino all'89 Con Rimpalli in aria Che non finiscono mai Sì L'Empoli ha avuto Le sue occasioni Però vabbè Niente di che Insomma Poteva anche fare un gol Non avrebbe rubato niente Ma Cioè Comunque L'Inter ha meritato Altre partite Dunque Vabbè Il Milan ieri ha vinto E Anche lì Una partita Combattuta L'altro ha giocato la sua partita Però il Milan ha vinto Quindi Onore al merito Poi vabbè Si sono giocate Contemporaneamente La Roma Contro il Crotone Che ha vinto 4-0 La Juve contro il Cagliari Che ha vinto 4-0 Era un po' anche prevedibile Insomma Ste squadre Sono abituate a fare Le goleade Poi figurati Se non ne fanno contro Le neopromosse Il Napoli Invece Ma un po' sorpreso Perché contro il Genoa Che è comunque Una squadra in forma Ha pareggiato Niente Raga Continuiamo la nostra corsa Per il terzo posto Non è che ho molto da chiedere Onestamente Voglio tornare in Champions L'anno prossimo E l'anno prossimo Con gli investimenti Di Suning Si spera Puntellare bene La squadra Che comunque Si spera Che vada avanti C'è il progetto Di De Bur Fino alla fine Della stagione E piano piano Insomma Cominciare a costruire Una squadra vincente Negli anni Senza Fretta Senza Cioè sì Se hanno i soldi Benvenga Ti spendono Però Non è che Spendi 100 milioni Allora vuol dire Che è squadra forte Non è così La squadra forte Ci costruisce sul campo Sul mercato Puoi prendere i giocatori Cioè Si vede Che comunque L'Inter ha dei giocatori Che in passato Non aveva Cioè Già avere Banega Giova Mario Candre Insomma Sono giocatori di un altro livello Due anni fa Giocavamo con Obi Dodò Kuzmanovic Nel senso Di un altro proprio livello Però Cioè comunque C'è una squadra Che comunque Dietro bisogna costruire Non è soltanto Il singolo Ma è proprio la squadra E Domenica Sarò a San Siro Per vedere la partita Contro il Bologna Farò il video Solite robe Per gli occhiali No perché magari Qualcuno si sta chiedendo Io non è che Ho smesso di portare gli occhiali Li porto ancora Però domani Ho visitato Dall'oculista Magari Riesco a mettere Le lenti a contatto Perché Gli occhiali A me non piacciono Perché Gli devi pulire Questo non c'entra un cazzo Col cazzo Sto parlando giusto qui Ma perché Gli occhiali Gli devi sempre pulire Cioè a me da fastidio Anche avere soltanto La gocciolina di acqua Quindi mi devo sempre essere Capito con la pezza Cioè con la pezza Con la maglia in realtà A pulire Sempre che Sti cazzo di lenti qua Le lenti a contatto So che bisogna pulirele spesso Però la sera tipo Credo Boh spero Vabbè spero che Sarò idoneo Perché devo andare a vedere Per le allergie E robe varie Niente Piccola parentesi Che non c'entra Assolutamente un cazzo E Vabbè niente Insomma abbiamo fatto Una buona partita E Speriamo di ripeterci Contro il Bologna Non ho particolarmente Oggi Gridato Cioè Adesso probabilmente Arriverà chi mi dirà Che sono Moscio Vabbè sarò anche moscio Ma figa Cosa devo dire stasera Cioè Non è che si può Esagerare È una partita normalissima È stata Una di quelle partite Che tu vinci Cioè se tu sei una grande squadra Ste partite Non le puoi non vincere Cioè È mettendo Una decina Una quindicina Di vittorie Del genere che Costruisci Un bel campionato Come dice De Burr L'elettoriero in conferenza stampa Tu vinci il campionato Con le piccole Non con le grandi Cioè con le grandi Puoi fare la partita Ma se poi Non hai continuità Con le piccole È inutile La continuità È una cosa Che va Cioè Che deve essere continua Ma va Cioè nel senso Lo dice anche il nome Bisogna Continuare Su questa strada Adesso c'è il Bologna Bisogna vincere Un altro in Bologna Poi ci sarà Lo Sparta Praga E la Roma Ecco Se già vinciamo Contro Bologna E Roma Ecco Già Diventiamo Una squadra Di un altro Un altro livello Cioè nel senso Già ci Evolviamo Come dice Che cosa Evolgiamo A una squadra Che può proiettarsi Per un bel futuro Niente Non so Cioè ho messo Delle parole Un po' Parolone Così Proiettarsi Evolviamo E calcio Stiamo anche un po' Tranquilli Vabbè Niente Ottimi minuti e mezzo Di video Io direi che Per oggi è tutto Ciao a tutti Sì Sì Grazie.